Buongiorno, buona mattinata, ben ritrovati all'appuntamento, al nostro primo appuntamento con l'informazione di Fano TV. Oggi è giovedì 14 settembre e come sempre andiamo a vedere che santo si festeggia oggi. Oggi si festeggia l'esaltazione della Santa Croce. La festa dell'esaltazione della Santa Croce si celebrava in memoria delle parole profetiche del Divin Maestro, quando sarò innalzato da terra, trarrò tutto a me. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete chi sono io. Questa festa, secondo molti autori, era già fissata il 14 settembre e celebrata con grande sonnalità prima ancora che l'imperatore Eraclio riportasse il santo legno nel luogo da dove Cosroe, 14 anni prima, lo aveva asportato. E vediamo un po' qual è la situazione del meteo oggi. Non sono più sicuramente delle belle giornate come quella della scorsa settimana, però le temperature sono ancora alte. Il tempo è a tratto instabile sulle marche, piova a chi sparsi la notte e poi nuovamente al pomeriggio. Le massime ancora siamo a 30-31 gradi. Avremo un venerdì a un sabato piuttosto nuvoloso, ma comunque con delle temperature piuttosto importanti. Arriveremo sempre a 29 gradi e domenica risplenderà il sole sulle marche con una minima di 20 gradi e una massima di 28. Il mare è poco mosso, il sole oggi è sorto alle 6.44 e tramonterà alle 19.20. E iniziamo subito la nostra rassegna stampa. Partiamo oggi dal Corriere Adriatico. Naturalmente con l'apertura ieri con l'inizio delle scuole, l'argomento principale che ci propone il Corriere Adriatico è giù la Lighieri ci siamo, scuole e il comune fa il punto sui cantieri. Dopo la media di Soria verrà demolita l'Anna Franca. Il campus lavora ancora in corso per le nuove aule del Marconi e gli studenti devono ruotare. Ed ancora vediamo la fotonotizia dispersa nell'alluvione trovata nel cimitero di Viestre. Brunella era seppellita in Puglia. Questa è una storia che poi andremo a vedere nel dettaglio. Ed ancora brevi di cronaca. Pesaro, il cavalca ferrovia, entro novembre i lavori sopra i binari. Ed ancora sempre Pesaro, Belloni chiama Fazzi, confrontiamoci sul parco Mirafiore. Ed ancora Pesaro, alloggi popolari per 24 famiglie, torna l'acqua calda. Cinque giorni a 1040 metri per salvare lo speleologo. Ed ancora a titolo di fondo frattesi il bomber azzurro che passa le vacanze a Fano. Ed ecco la prima, diciamo proprio l'articolo dedicato, doppia pagina dedicata a Brunella. Brunella, la donna morta due volte. Brunella era dispersa nell'alluvione. Il cadavere poi è stato recuperato a novembre nel mare delle Tremiti e l'avevano già seppellito in Puglia. Poi c'è stata la prova del DNA e ieri purtroppo la comunicazione al figlio sopravvissuto. Le tappe della vicenda le ricordiamo velocemente. Il 15 settembre del 2022 Brunella Q, 56enne, cerca di fuggire in auto con la figlia di 17 anni, ma la loro macchina viene travolta dalla piena. Noemi muore mentre l'altro figlio, Simone, 23 anni, si salva. Salendo su un albero il 21 di settembre l'auto di Brunella viene ritrovata Corinaldo, invasa dal fango e distrutta dalla violenza del fiume. Il 4 novembre il cadavere in stato di avanzata decomposizione viene ritrovato nel mare delle isole Tremiti in Puglia e viene quindi trasferito all'obitorio di Vieste. Il 22 di dicembre il cadavere ancora senza nome viene seppellito in una zona del comune del cimitero di Vieste. A luglio del 2023 un medico legale si presenta al cimitero di Vieste per il prelievo di alcuni campioni di tessuto osseo per l'esame del DNA e il 13 settembre purtroppo viene comunicato ai familiari che si tratta del cadavere di Brunella. Purtroppo naturalmente campane a lutto nel paese di Barbara con le lacrime anche del sindaco. Siamo sempre a Pesaro, riparliamo del rientro delle scuole, tra ottobre e novembre si demolisce l'Alighieri, poi tocca l'Anna Franca il primo giorno di scuola. È servito a fare il punto sui lavori del comune ed infatti cantiere aperto al Marconi gli studenti devono ruotare. Situazione provvisoria fino ai primi di ottobre per ricavare nuove aule. Andiamo alle pagine direttamente di Fano e il Corriere Adriatico dedica la prima pagina di Fano a frattesi, le vacanze fanesi del bomber azzurro per frattesi l'orgoglio di una comunità, famiglia originaria di Serra e zia Margherita in questo articolo racconta l'infanzia del giocatore affascinato dalla natura. Adesso è un campione, veste la maglia dell'Inter e della Nazionale, spesso risulta decisivo come l'altro sera a San Siro dove Davide Frattesi ha indossato i panni del primo violino segnando una doppietta all'Ucraina. fino a 15-16 anni Davide Frattesi tornava spesso a Serra Sant'Abbondio insieme con la famiglia che si è trasferita ormai a Roma già da tanto tempo, quel ragazzino sveglio e intelligente è un pezzo di cuore per zia Marinella, la sorella di papà Frattesi, consigliera comunare a Serra Sant'Abbondio che vive a Pergola. Il sindaco Caverni ha postato i suoi complimenti per la splendida partita giocata da Frattesi contro l'Ucraina, siamo tutti molto orgogliosi di lui e il sindaco dichiara sarebbe bello coinvolgerlo per iniziative dei giovani. Ed ancora sempre a Fano nessuna baby gang, solo disagio familiare, questo riguarda alcuni fatti commessi da gruppi giovanili che hanno preoccupato la città di Fano ma nel corso di una riunione alla luce degli elementi in possesso della questura e dei risconti delle forze dell'ordine è stato precisato che il fenomeno non è riconducibile alle baby gang ma legato a situazioni di particolare disagio familiare e sociale. E restiamo sempre a Fano, ricordo siamo sempre sul Corriere Adriatico, oggi è giovedì 14 settembre, sulla APS una posizione prepotente e autoritaria spallata del centro-destra che contesta il diritto di decidere da un sindaco uscente. Un intervento congiunto del centro-destra fanese ribadisce l'opposizione alla nascita dell'ASP cui spetterà la gestione associata delle politiche sociali nei nove comuni dell'ambito 6. Il progetto riguardante la SP è stato proposto in maniera poco trasparente, prepotente e autoritario. Sostengono Alessandro Brandoni della Lega, Enzo Di Tommaso di Forza Italia, Loretta Mannocchi di Fratelli d'Italia e Stefano Pollegioni dell'Udc. Il percorso verso la futura azienda è un'iniziativa fortemente viziata sotto il profilo politico, dichiarano i quattro partiti ed è palese che un amministratore unico si troverà a gestire 60 milioni di euro in cinque anni con un impatto decisionale significativo sulla nostra comunità. Non può essere scelto da un'amministrazione che tra pochi mesi terminerà il suo mandato. Ed ancora Nilvana ha dedicato la vita alla sua famiglia e qui c'è l'addio, il ricordo della donna morta nell'incidente di domenica e le parole del sacerdote. Urbino, vediamo le pagine di Urbino, si riaccende la polemica sull'ascito per la casa di riposo che purtroppo non è mai stata realizzata e coniugi maccioni destinarono il loro patrimonio alla costruzione di una struttura. Oggi si chiedono dov'è finito questo patrimonio, si riaccende la polemica sulla mancata realizzazione della casa di riposo a Ferminiano e sulla fine della corposa donazione che i coniugi maccioni avevano fatto alla chiesa locale un lascito che risale agli anni 70 composto naturalmente di danaro e poi devoluto alla chiesa locale che avrebbe dovuto realizzare una casa di riposo. L'immobile è stato inizialmente dato in affitto all'Istituto Benelli e oggi la costruzione risulta abbandonata da decenni. Rimangono alcune piante pericolose per la loro stabilità e ruderi pesantemente ammalorati. Ora i pensionati e i loro familiari tornano a chiedere come colmare questa assenza. Passiamo in Val Metauro. Asquo, ospedale di Fossombrone, lotto di nuove attrezzature. Saranno sostituiti 29 testa a letto in corso per i lavori di ristrutturazione. A Fossombrone arrivano i nuovi testa a letto per le cure intermedie dell'ospedale di comunità di Fossombrone. L'Ast informa che da marzo 2022 il reparto è tornato alla normalità dopo il Covid e circa 600 sono stati degenti che hanno usufruito delle cure con la presa in carico di una complessiva finalizzata alla massima autonomia possibile per il paziente prima del ritorno a casa. Ed ancora passiamo alle pagine della Val Cesano. A scuola guardando al futuro ma naturalmente senza dimenticare Mattia. La ripartenza. Il sindaco ha salutato i ragazzi. Poi un pensiero anche alla piccola vittima dell'alluvione. Nicola Barbieri. Il sindaco avverdita la scossa paura ma niente disagi. Il sindaco di Mondolfo rassicura attività didattica senza alcuna interruzione. È stata distintamente avvertita la scossa di terremoto che si è registrata ieri mattina a largo della costa con un epicentro in mare a 26 chilometri di distanza dal centro abitato di Mondolfo. Vigili del fuoco e vigili urbani hanno confermato di non aver ricevuto fortunatamente nessuna chiamata di aiuto e il sindaco proprio ha dichiarato nessuna criticità al momento. Viene monitorata la situazione e non sono stati rilevati problemi di staticità o necessità di sopralluoghi negli edifici del territorio. Senigallia si sente male e si ribalta col trattore. Muore davanti agli occhi dei familiari. La tragedia ieri mattina a Grottino. Floriano Gara stava tornando dai campi e lo aspettavano a casa. Ed ancora un altro caso di malore. Improvviso lo shock a Senigallia, tragedia a Grottino ieri mattina dove Floriano Gara, imprenditore agricolo di 69 anni, è morto colto da un malore alla guida del trattore. Si è prima sentito male, poi il mezzo fuori controllo si è scantato contro un albero ribaltandosi. Per il titolare dell'omonima azienda agricola purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'hanno visto sbandare più volte e poi c'è stato questo grande impatto contro l'albero. Vani però i tentativi di rianimarlo. E con questa notizia del Corriere Adriatico passiamo al resto del Carlino. Il resto del Carlino invece parla del dengue. La prima notizia è caso di virus dengue a Fano. Il sindaco Seri fa disinfestare il Lido e il Porto Canale. Sembra che arrivi da una puntura di un fanese rientrato da un viaggio in Guatemala. Ed ancora Covid, contagi su ma non fa paura. Impennata a settembre il primario dice tutto sotto controllo. Campania anti-influenzale al via da ottobre. Ed ancora la fotonotizia, la campanella va tra gioie e dolori e torniamo a parlare dell'apertura delle scuole. Ed ancora di nuovo Bomber Frattesi in vacanza veniva sui nostri monti. Pesi, una 22enne andrà a Budapest. Nicole solleva il mondo, convocata agli europei. Brevi di cronica, di fondo pagina, vis 125 anni di vita, abbonamenti in vendita. San Carlo, che storia e Don Guido c'è ancora. Ed entriamo nelle pagine proprio del rientro a scuola. Dal sorriso alle superiori, le aule mancano ancora e le rette dei nidi pesano. Degli asili si è occupata anche la commissione consigliare. Resta poi il problema di conciliare l'orario della scuola con quello dei bus. Intanto, per il momento, si esce da scuola alle 13 e 25. E torniamo a parlare purtroppo di Covid. Covid, salgono i contagi. Il reparto infettivi si affolla, ma il virus, fortunatamente, non fa paura. A ottobre, vaccini solo alle persone fragili. Curva in salita a settembre. Il primario Barchesi, molti anziani, con patologie. Liverani, direttore della sanità pubblica, importante soprattutto immunizzare i più deboli. Ricordiamo, la campagna anti-influenzale, anti-Covid nelle Marche, è in partenza a ottobre. Il Ministero ha indicato le categorie a rischio che, vaccinandosi, saranno protette dall'ultima variante, che questa volta, attenzione, si chiama XBB. Perché i nuovi vaccini sono aggiornati. XBB, le vaccinazioni saranno effettuate principalmente negli ambulatori dei medici di medicina generali e pediatri, negli ambulatori del servizio di igiene e prevenzione nelle farmacie. In base al bollettino regionale, l'incidenza nel territorio è salita negli ultimi giorni da 32,78 a 35,44. Nell'ultima settimana, in provincia, sono emersi 97 positivi, 161 dall'inizio del mese. Il numero è ancora basso, come basso è ancora l'impatto ospedaliero, soprattutto se rapportato alle precedenti ondate pandemiche. E passiamo alle pagine di Fano. Monastero trappista, fanesi, sfida tutti. Ne avevamo già parlato ieri in rassegna di questo monastero. Per i casi simili, nessuna levata di scudi. Il Vice Sindaco difende la variante e cita gli esempi delle benedettine a Montegiove, delle carmelitane scalze a Sant'Andrea in Villis. Sì al monastero dei frati trappisti, no, per ora, al cimitero. Dovrebbe arrivare in consiglio comunale il 25 settembre, dopo alcuni rinvii, la controversa variante per la costruzione della nuova abbazia sulle colline di prelato Monte Giove. 23 celle per i monaci, chiesa, sacristia, uffici vari, refettorio, biblioteca, scriptorium, sala capitolo, sala liturgia, sala parlatoi, cucina, dispensa e magazzino. La delibera ha già ottenuto il parere favorevole del genio civile, della sovraintendenza e della provincia. I frati, che saranno circa 13, una volta venduto il monastero di Frattocchi e di Marino, potrebbero trasferirsi a Fano entro la fine dell'anno, nel casale appena ristrutturato, destinato in futuro a foresterie. Cristian Fanesi, assessore all'urbanistica, difende la scelta del monastero sulle colline di prelato Monte Giove, anche se non condivisa da tutta la maggioranza. Ed ancora, contagio da dengue, disinfestazione in città. La malattia veicolata dalla puntura di zanzare, diagnosticata a un fanese, il sindaco Seri dichiara tranquilli, non si trasmette da persona a persona. È stato un contagio rilevato nelle scorse ore, dopo che un fanese si è recato al pronto soccorso in predo di una febbre molto alta. Da lì sono immediatamente scattate tutte le misure di emergenza disposte dal sindaco Massimo Semeri, a cominciare dalla disinfestazione a Lido e a Porto Canale, secondo un protocollo. La decisione è stata presa d'urgenza, disposta con un'ordinanza emessa nel pomeriggio di ieri dal primo cittadino, dopo che è stato diagnosticato il caso di contagio da dengue. A seguito della segnalazione provinciale, sembra che la persona contagiata, che è proprio residente a Lido, fosse da poco rientrata, come ho detto prima, da un viaggio all'estero in Guatemala, dove purtroppo si diffonde la malattia. Ai residenti di questa parte della città sono state fornite le indicazioni da seguire prima e durante il trattamento. Attenzione, raccogliere frutta e verdura, proteggere con teli di plastica o portale all'interno delle abitazioni, ciotole o giochi per bambini e soprattutto proteggere gli animali domestici. Ed ancora, rimaniamo sulle pagine di Fano, sottopagati e svalutati, l'ira degli educatori, manifestazione, questa manifestazione ci sarà sabato pomeriggio in piazza Amiani, per protestare contro i ritardi degli enti nell'individuazione delle figure di sostegno. Gli educatori sono sul piede di guerra, riuniti nel Comitato Diritti Educatori Marchi si sono dati appuntamento per sabato pomeriggio in piazza Amiani alle 17.30. Il ritardo del bando per l'individuazione degli educatori, per gli studenti con gravi disabilità, ha non solo scatenato la preoccupazione delle famiglie, ma delle stesse educatrici ed educatori che si sono costituiti in comitato. Si tampona la situazione, ma le condizioni precarie restano. Valcesano, passiamo a Marotta, l'ex denuncia, figlie lasciate sole, ma il giudice crede alla mamma. Aveva denunciato la moglie, accusandola di abbandonare le piccole a casa per andare dal nuovo compagno. denunciata dall'ex marito per aver lasciato la sera le figlie di 5-8 anni da sole in casa per andare al bar dove lavorava il compagno. La donna ha rischiato là il processo per abbandono di minori, lei ma anche il suo fidanzato. Alla fine però il giudice ha creduto a quella della mamma e al conviventi. Ieri il PM ha chiesto di non mandare quindi la coppia a giudizio. Passiamo a Urbino. Urbino, noi educatori siamo dimenticati dai comuni. Il comitato che riunisce i professionisti marchigiani che si occupano di bimbi disabili risponde all'assessore comunale Francesca Fedeli. Anche questo articolo lo abbiamo già ritrovato sul Corriere Adriatico. Ed una bellissima notizia che ritroviamo anche in prima pagina del resto del Carlino. Nicole, pronta a sollevare il mondo, già l'aspettano agli europei. La 22enne di Calagostina è attesa a Budapest a metà ottobre per la gara di powerlifting. I suoi esercizi sono iniziati, pensate, per fare sport durante la pandemia. E subito dopo si è scoperto il suo talento. Da una passione nata per caso e curiosità a una convocazione agli europei in tre stagioni. Nicole Spini, 22enne di Calagostina, Ferminiano, andrà alla rassegna continentale di powerlifting. Il sollevamento pesi in tre esercizi con la nazionale junior, 19-23 anni, gareggiando nella categoria 57-57 kg. L'evento si svolgerà a Budapest dal 10 al 17 ottobre. Noi facciamo veramente tanti complimenti a questa ragazza perché avere degli atleti che poi arrivano ad avere delle posizioni così importanti a raggiungere dei taguardi per la nostra regione è davvero importante. Affrontare e curare l'Alzheimer. Questa è una notizia molto importante. Torna meravigliosamente a Urbani a sabato pomeriggio nella sala Valponi. esperti e volontari a confronto sulle miglior pratiche. L'Alzheimer è una malattia soprattutto impegnativa per i parenti che devono prendersi cura delle persone che purtroppo anziane sono corpite da questa malattia e sono tantissime. Per questo ho scelto proprio di leggervi questo articolo uscito sul resto del Carlino. Torna anche quest'anno meravigliosamente il convegno che l'Associazione Alzheimer & Mark che organizza in collaborazione col Comune di Urbagna e l'Associazione Alvus di Urbagna. Giunta alla sua quarta edizione, sabato alle 16.30 alla sala Volponi si parlerà di ambienti di cura per le persone affette da demenza nell'ambito domestico, residenziale e sociale, luoghi dove vivono o ristiedono anche per brevi periodi i malati di Alzheimer. Queste cose hanno avuto una funzione molto importante e devono essere il più possibile protetti. Quest'anno interverranno come relatori la dottoressa Anna Paola Prestia che illustrerà le modalità per adattare con piccoli accorgimenti la casa di un malazzo, di un malato di Alzheimer e Marcello Barbafiera, amministratore delegato della Generali Arredamenti, interverrà sulla progettazione di strutture per i malati di Alzheimer. Questa era l'ultima notizia. Abbiamo chiuso anche oggi la nostra rassegna stampa. Noi ci vediamo domani mattina, naturalmente sempre alle 7.00. Io vi auguro una buona giornata. Noi ci vediamo domani mattina.